Per quanto tempo dovrebbero tenerla? Fino a dopo il parto? Per me possono tenersela finché vogliono. Che bambina graziosa. Su, vieni fuori. Sì, sei bella. State attenti, questa si mangia anche al tavolo. Mi stupirei del contrario, la sua età è più che normale. Saremo felici di averla con noi. Sean, saluta Kite che va a dormire. Kite! Kite! Lo sai che non puoi andartene in giro da sola? Mi hai sentito o no? Non aver paura. Non lo sai? Che cosa? Il figlio dei Kinsella. Quella povera anima. La tua mamma vuole che provi anche questo. È una bambina molto silenziosa. Dice solo quello che ha bisogno di dire. Se fossi mia figlia, non ti lascerai mai a casa di estranei. Ecco. Provaci tu. Fai tesoro delle parole. Ricordatelo sempre. Troppe persone non hanno taciuto quando era il momento di farlo. E hanno pagato un prezzo molto alto.